Musica Benvenuti alla rassegna stampa di oggi venerdì 21 luglio, questa è Fano TV sul canale 17, c'è la rassegna Occhio ai giornali. Cominciamo dal santo di oggi, vediamolo subito dal calendario con la grafica, oggi è San Lorenzo da Brindisi, il sole è sorto alle 5.45 e tramonterà alle 20.44 e oggi avremo una giornata dal punto di vista meteorologico pressoché identica a quella di ieri con piogge che insisteranno magari nel corso del pomeriggio nelle zone interne meridionali della regione. Le temperature sono in lieve aumento, i venti di brezza lungo la costa. Per domani, sabato 22 luglio, non piove, non ci saranno precipitazioni però saranno i venti a farla da padrone con raffiche fino a vento fresco nelle zone della montagna mentre avremo a tratti moderati del vento lungo la costa soprattutto al mattino in rotazione da sud-est poi nel pomeriggio. Per quanto riguarda la giornata di domenica, ancora temperature in aumento e ancora venti di brezza tesa da sud nelle zone interne e anche lungo la costa. Per quanto riguarda i prossimi giorni, l'inizio della prossima settimana ci sarà una lieve instabilità, forse un po' di pioggia, qualche temporale tra lunedì e martedì. Partiamo dai giornali, oggi i giornali tornano sull'incendio al rifugio Corsini sul Monte Nerone a 1249 metri d'altezza, è stato divorato dalle fiamme, distrutto, il rifugio Corsini non esiste più, ha ospitato migliaia di turisti. Poi questa è la prima pagina del quotidiano Carlino, il resto del Carlino purtroppo non ce l'ha fatta, il 14enne anzi che il 9 luglio era caduto in una curva a pochi metri da casa sul suo motorino, ha lottato in vano per 10 giorni, è morto. Di origini macedoni, era studente al Pascoli di Urbino, condivideva con il padre la passione per i motori. Poi, sempre sulla prima pagina, la tragedia di Carmen, se la gestante è morta davvero per il parvovirus vanno riviste molte cose, dice il pediatra, lo vedremo tra poco. Poi ci sono due brevi di sport, da Pesaro, VL, dopo la firma di Mica, oggi toccherà a Watson e poi il calcio, con l'arrivo di Cruz, sarà una vis sudamericana. La tragedia di Carmen, Carmen Zazzaro, la 24enne, morta il 10 di agosto all'ospedale di Fano, insieme al bambino che aveva in pancia il suo secondo figlio. Lei era al nono mese di gravidanza. Parla alla mamma di Carmen, che dice ad Elisabetta Rossi, la giornalista del resto del Carlino, voglio giustizia per la mia Carmen, andrò fino in fondo, finché avrò vita. Dovevano farle subito il taglio cesareo, si sarebbe salvata, secondo la mamma. E invece non è andata così, ma ci vedremo in tribunale e non avrò pietà per nessuno. A spezzare quelle vite, quindi mamma e bimbo dentro la pancia, sarebbe stato appunto il parvovirus B19, ovvero quello che provoca la cosiddetta quinta malattia. Ma parla nel giornale di questa mattina un pediatra, Roberto Budassi, che dice però, se fosse stato davvero quel virus, oggi dovremmo rivedere molte cose. Perché? Perché il pediatra dice che è considerato assolutamente non pericoloso. Nella normale pratica clinica, la quinta malattia è considerata quasi una banalità, è una patologia estremamente leggera dai tempi di incubazione piuttosto labili. La prevenzione anche per le gestanti è semplicemente e soltanto igienica e dunque questo sarebbe un caso eccezionale. Sul rogo al Monte Nerone, il rifugio forse è stato un cortocircuito, il rifugio Corsini in ceneri, ipotesi e danni per 400 mila euro. Burani, delle sciovie del Nerone, parla di un danno enorme per tutti. Agosto tra l'altro era il mese più affollato, 10 mila le presenze ogni anno. Il rifugio Corsini era stato costruito nel 1967 e ospita ogni anno appunto circa 10 mila persone. Andiamo sulla pagina di Fano adesso del resto del Carlino. L'apertura è per la Rocca Malatestiana. Dopo 20 anni dalla via dei lavori, un recupero davvero storico, monumento che potrà essere utilizzato per eventi che potranno ospitare anche 800 spettatori. I lavori sono stati eseguiti in un anno e mezzo, sono costati circa mezzo milione di euro. Sul carnevale estivo non si placano le polemiche. Il comune dai numeri provoca un caso, l'intervento della presidente dell'ente Gian Marioli che entra dunque nel dibattito politico. L'opposizione di centrodestra attacca e chiede le scuse adesso del Gian Marioli. Del vecchio insiste e dice ho l'impressione che con il carnevale di Fano, quello estivo, che per promuovere poi quello invernale, si volessero tirare su dei soldi per recuperare le perdite di bilancio. La pagina di Urbino invece, il sindaco che va in altalena, lo vedete nella fotografia, il sindaco, eccolo qua, Gambini, con il consigliere delegato per le politiche giovanili Laura Scalbi, ritorna a vivere il Parco del Monte, installati nuovi giochi per i bambini. Riqualificata l'area dietro al monumento a Raffaello. E poi ancora la cronaca, come dicevamo in apertura, è morto dopo dieci giorni di agonia, il quattordicenne caduto in moto a Trasanni, era appena partito dal bar, l'incidente è vicino casa, ha lottato come un leone ma non ce l'ha fatta, sarà il nostro angelo in cielo, dice il padre. E non dovrebbe essere stato il cavalletto, qualcuno lo ricorderà come particolare, avevamo detto che forse in un primo momento era il cavalletto che era rimasto aperto, non si era ricordato di toglierlo, non si è accorto, ma non dovrebbe essere stato il cavalletto aperto a farlo cadere. È scivolato sulla curva e purtroppo non c'è stato niente da fare, è ancora da stabilire la data del suo funerale. Apriamo adesso invece il Corriere Adriatico perché arriva una notizia dalla montagna, dalle Dolomiti, di un pesarese, un giovane pesarese che è stato ricoverato in ospedale con i sintomi del morbillo. Ora ha messo in allerta altre 250 persone, tutti coloro che in questi giorni sono entrati a contatto con lui. Il pesarese che ha poco più di 30 anni è un cameriere e in questo periodo sta facendo la stagione in un albergo sulle Dolomiti. Mentre c'è stato un nuovo sopralluogo alla Rocca di Pesaro per vedere un po' la capienza del cortile interno, il prefetto Luigi Pizzi nei giorni scorsi, anche dopo l'iniziativa che c'è stata al Parco Miralfiore, ha chiesto di essere avvisato preventivamente di quante persone potrebbero partecipare a questi raduni, a questi eventi. Colto forse anche lui di sorpresa dal grande successo di pubblico che ha avuto appunto la manifestazione sui vaccini. Quindi Palio dei Braceri, solo 100 partecipanti però potranno iscriversi per ogni contrada. Rocca Costanza dunque blindata, semaforo verde per i Braceri ma con transenne e via di fuga. E si parla proprio di questo, di questo piano di sicurezza per il Palio dei Braceri con ticket via di fuga e balaustre. C'è stato questo incontro in prefettura per questa Kermesse che avrà il suo clou a Rocca Costanza e come dicevamo non potranno partecipare più di 100 persone a contrada. C'è qualche buona notizia invece per gli scolmatori che spesso fanno firmare ordinanza di divietti di balneazione quando soprattutto ci sono i temporali e anche quegli estivi. Ebbene questi scolmatori adesso si stanno realizzando, ci sono questi lavori che sono ripresi a Sassonia da parte verso Baia Metauro, Sassonia Sud, via i lavori non stop, due maxivasche per la pioggia. La conclusione di questo intervento è fissata per il prossimo mese, per il prossimo anno, insomma il mese di marzo e questo intervento annullerà i divieti di balneabilità. Fano trova un alleato in Tecchi. Tecchi chi è? Gerardo Tecchi è il presidente nazionale della Federazione Ginnastica Italiana che indica la strada per avere un nuovo palazzetto, un nuovo palazzetto che secondo lui appunto si può fare. La Rocca contenitore di cultura per la città, l'inaugurazione che c'è stata ieri dove il sindaco di Fano, Massimo Seri, ha tagliato, lo vedete nella fotografia, circondato da assessori e quant'altro il nastro di questa bella Rocca. Seri si gode il restaurato gioiello di famiglia, Minardi dice è un simbolo della riqualificazione. Dalla Valle del Cesano invece le scogliere, saranno finanziate le ricariche, la manutenzione sul litorale sud, ci sono i fondi da parte della regione del comune, serviranno per sistemare 540 metri di scogliere da Levele fino Fano, in direzione appunto di Fano. A Pergola, ecco il cartello che ha scatenato le polemiche, a Pergola cassa chiusa all'ospedale, non c'è più la segretaria, la denuncia di Baldelli, Ceriscioli fa i selfie con Borri, poi però non sostituisce il personale. E nel cartello c'è scritto, vedete, per problemi tecnici, oggi pomeriggio 20 luglio 2017, lo sportello è aperto solamente per le prenotazioni. Senigallia, maxicolpo in uno studio dentistico, rubati in macchinari per 100.000 euro, in due hanno fatto razzia alla Socildent di Via Strada della Bruciata, i banditi sono stati ripresi dalla Spycam, eccoli qua, uno anche bello in carne, mentre appunto entrano nello studio dentistico. Chi non ricorda mister Giorgio Ciaschini? Anche i fanesi se lo ricordano. Giorgio Ciaschini è questo signore qua, adesso ve lo cerchio con il giallo, ed è attorniato niente po' di meno che da Inzaghi e da Del Piero. Stiamo parlando dei tempi della Juventus. Sebbene mister Ciaschini, il segreto della Champions, questo è il titolo su Pesaro e Provincia del Corriere, da 22 anni Ciaschini è l'uomo di fiducia di Carlo Ancelotti. Il tecnico pesarese oggi fa l'osservatore per il Bayern, non dimentica però il suo primo amore, che è la Vispesaro, e dice farò l'abbonamento per vedermi qualche partita. Ha 70 anni Ciaschini a settembre, ex portiere prodigio della Vispesaro, poi in Serie A con il Vicenza, infine Mantua e Fano, prima di diventare allenatore. Chiudiamo con l'ultima pagina del Corriere Adriatico, che è un po' una sorta di raccomandazione che tutti i giorni quasi facciamo anche dalla rassegna stampa, quando ci sono notizie come questa. Cassiere salva un anziano dalla truffa del Rolex, una donna a un certo punto ha gridato a questo anziano di 76 anni, guardi mi ha rotto l'orologio, un Rolex da migliaia di euro, ha cominciato appunto a gridare questa sconosciuta. L'anziano di Vallefoglia, nella foga del momento, ci ha creduto, e dopo un momento di consternazione ha detto che ci avrebbe pensato l'assicurazione. La truffatrice ha chiesto al signore 4.000 euro, lui ne aveva soltanto 100, lei intanto quelli se gli ha fatti dare, e poi insomma il tipo, questo signore anziano, si è organizzato per andare in banca. E il resto del racconto lo troverete sul giornale di oggi, in edicola. Io mi fermo qui invece, grazie per aver seguito la nostra rassegna stampa, al 338 4968 250, come sempre potete inviare le vostre segnalazioni, tutto ciò che vi accade attorno, se pensate che possa essere utile per il telegiornale e per la comunità, mandateci foto, video o semplicemente un testo scritto, poi noi faremo il resto. Grazie per averci seguito e buona giornata a tutti. Grazie per aver guardato il video.